Tutto inizia il venerdì sera, venerdì 4 agosto, con le cene propiziatorie dei quartieri. È un momento in cui i quartieri si ritrovano per augurarsi il meglio per la manifestazione, ma è un momento di grande festa aperto a tutti, anche ai non feltrini. Un appello esteso a tutti, anche agli spettatori, invitati ad adottare simbolicamente un quartiere per partecipare ai momenti di festa, perché il palio di feltre che Antenna 3 trasmetterà in diretta domenica 6 agosto è tradizione, rievocazione storica e svago in un'atmosfera medievale che riporta agli occhi il 1404, l'anno in cui la città si donò alla Serenissima. Sabato i mercatini medievali, nel pomeriggio a partire dalle 3 le attività dedicate ai bambini. Dalle ore 20 alle ore 21 c'è la cerimonia di dedizione, la rievocazione della donazione di feltre a Venezia e poi inizia il momento delle gare, la prima gara del tiro con l'arco e la seconda gara della staffetta. Concluderanno la serata lo spettacolo degli sbandieratori città di feltre che quest'anno celebrano 40 anni di storia e i fuochi d'artificio. È un grande orgoglio, è un grande orgoglio pensare al fatto che un'iniziativa che era nata con uno spirito davvero pionieristico nel 1979 abbia poi raggiunto questa importanza per la nostra città e per il nostro territorio, tanto da richiamare spettatori stranieri o da fuori feltre e da tenere viva tutta la nostra città per l'intero anno. Grazie Grazie Grazie